Un gioco su Ghost in the Shell Mio! Stas facendo la scansione di Avast Eeeeh... Deathmatch Deathmatch perché Demolizione è quella che non deve mai vincere in tutta la vita Come cazzo fa la gente poi a giocarci in demolizione? E a quanto pare ha finito Il mutk-making A differenza di Paladins Adesso due ore Perché si connetta Che bello vivere in Italia Andiamo bene Non stavo assolutamente guardando Stavo pure In inferiorità numerica Quindi Sì ma scusi signore Eh Va bene una volta Ciao Sì però io sono anche stronzo Che vado nel loro spawn point Forse è il caso di Andarsene via Via Merda Eeeh Eeeh vabbè Eeeh Lei? Ma che cazzo? Salve Ah Siamo proprio forti Eeeh Eeeh vabbè Grazie Questa è un'ottima abilità Solo che sono stronzo E ho scelto la fagiana Alle cose utili Oh merda Quanta gente Merda Qua muoio Eeeh E vabbè Aia Eeeh Che bello Lo scambiabare Che poi non è questo Ma chi se ne frega Sì ma perché io sparo Non prendo un cazzo di nessuno Alle volte Tica Au Sì ma stiamo perdendo di niente Ce lo stiamo contro degli imbeci Ah no era Era mio Ecco Stavo facendo il pirla Ma Ma Eeeh Via Oh merda No ma con lì L'hanno già fatta Mi ha preso Eeeh Vabbè ci muoio per forza E vabbè però Eeeh E così non si fa Eeeh Sto facendo letteralmente schifo Eeeh Ah 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 Ma è morto o no? Boh Eeeh Questo gioco è bellissimo Perché non capisci mai Se c'è a fianco i tuoi compagni Oppure Sono gli altri Mai Via due Eeeh Quanta gente Ho fatto una tripla però Suka Poi minchia con lanciapuffi Quattiti Mi l'abbiamo perso sicuro Eeeh Dunque Chi è? Tanto non becco mai nessuno Eh abbiamo perso Fai cosiii Stai gitto Oramaki Eh lo so Lo so Che schifo la vita Sì però Io volevo fare L'assalto fantasma aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa